Si chiama Hurley Warning ed è un sofisticato sistema che misura una serie di parametri garantendo con la loro elaborazione il controllo in tempo reale della qualità delle acque. L'ho annunciato la Ruzzoreti, società acquedottistica che gestisce il servizio idrico integrato per 39 dei 40 comuni dell'ente d'ambito Terramano, che dunque presto potrà fruirne grazie all'approvazione da parte del CDA dell'acquisto dei servizi e delle forniture necessarie per potenziare le attuali sonde destinate a monitorare l'acqua avveniente dall'invaso del Gran Sasso. Dal primo momento abbiamo subito pensato che fosse necessario, a prescindere dagli interventi strutturali che poi risolveranno il problema alla radice, mettere in piedi degli upgrade dei sistemi di controllo attualmente in uso proprio per migliorare e aumentare la qualità dei controlli e quindi garantire la qualità delle acque. Il sistema in realtà è un upgrade di un sistema che è già esistente, esiste già un sistema che manda a scarico le acque in caso di anomalie. Queste nuove sonde che ci verranno consegnate nelle prossime settimane consentono di aumentare il numero dei controlli e il numero delle sostanze che vengono monitorate, quindi consentendo una immediata risposta a qualsiasi tipo di anomalia. Devo però precisare, perché mi viene sempre rivolta questa fatidica domanda, ma si può bere l'acqua del ruzzo? Bene sì, perché noi in questi mesi abbiamo rinforzato i controlli e abbiamo effettuato, oltre che l'analisi in autocontrollo, l'Arta ha effettuato più di 4.000 controlli negli ultimi mesi e nessuno ha dato mai esito negativo. Quindi da questo punto di vista mi sentirei di stare tranquillo, ma ciò non toglie che si debba investire strutturalmente per risolvere il problema alla radice e intanto per migliorare la qualità dei controlli. Un upgrade che secondo lei entrerà in funzione tra quanti mesi? Sui tempi di consegno non le so dire, abbiamo deliberato la scorsa settimana, l'impegno economico è rilevante, parliamo di circa 190.000 euro perché poi sono apparecchiature estremamente sofisticate che sono poi di governo da parte di un'unica azienda sul territorio nazionale, c'è un unico acquedotto che attualmente lo utilizza, che è l'Acquedotto di Milano, quindi i tempi non saranno immediati, però riteniamo comunque nell'arco di un mese o due dovremmo avere la risposta. A termo alla fine, come richiesto dai commercianti, 19 nuovi parcheggi gratuiti ricavati in piazzale San Francesco a ridosso della Juola Spartitraffico Centrale sono stati implementati della segnaletica che obbligano gli automobilisti all'utilizzo del discorario. Soste quindi che non potranno superare i 60 minuti, un sistema essenziale per garantire il ricambio e favorire la sosta delle auto. Sono stati messi a piazzale San Francesco dei parcheggi a tempo, però certamente bisogna capire e bisogna davvero vedere per quello che riguarda i parcheggi in centro storico come cambiare, come svoltare, perché anche in città necessitano questi parcheggi a tempo. Chiederemo e avremo un incontro con il commissario per parlare non soltanto dei parcheggi ma anche dell'illuminazione, perché questi ultimi giorni sono stati cambiati i fari in centro storico in alcune vie, ma da un minimo di luce che c'era siamo passati davvero a un buio quasi totale, che sono stati messi i led ma davvero diventa una cosa oscura, diventa una via davvero poco illuminata, quindi anche per certi versi pericolosa. Il problema delle luci riguarda anche il corso, il nuovo corso di Tero? Sì, assolutamente, perché purtroppo c'è stata una domenica alle ore 18, ma questa è una cosa che veramente è successa anche ieri sera, spesso il corso rimane buio, buio totale e quindi sono soltanto le luci dei negozi e dell'illuminato, insomma vorremmo capire perché questa cosa succede e anche alla luce di questa situazione per rivedere davvero l'illuminazione che da molti anni si parla che deve essere cambiata, ma alla data attuale siamo ancora in queste condizioni. Le associazioni Teramo Nostra e Confesercenti Teramo hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica per cercare di fare chiarezza sul progetto di copertura del Teatro Romano di Teramo, una decisione presa dalle due associazioni a seguito di alcuni articoli comparsi sulla stampa su cui veniva presentato un progetto di copertura totale del Teatro Romano, presentato da uno studio tecnico siciliano, programmazione che di certo non rispecchia quanto stabilito anni fa fra l'ex Giunta Brucchi e le associazioni cittadine. Questa iniziativa è stata più che necessaria, viste le vicende decennarie del Teatro Romano, perché già a suo tempo l'abbattimento di Palazza d'Amore, dove ne furono stanziati ingente e risorse, fu confutato in una ristrutturazione e di fatti lì sono presenti i famosi contrafforti in cemento bianco. Noi a seguito di quando è venuto fuori dalla stampa nella settimana scorsa, sapendo che lì ci doveva essere un intervento di recupero funzionale e da come erano venute fuori le discussioni in Consiglio Comunale, quando fu approvata la cosa, l'iniziativa, doveva essere tutta all'aperta, in quanto si prevedeva pure una pedonalizzazione dell'area circostante, come tutta via Paris, nel vedere che ci sta questa iniziativa di totale copertura, poi fra l'altro con una struttura alquanto impattante, abbiamo ritenuto opportuno per fare chiarezza di investire la magistratura a far che possa verificare se quando proposto dallo studio Bellomo di Palermo, che qualcuno gli ha dato l'incarico per proporre quel progetto, a fine a quanto è stato deliberato nel 2010 dal Consiglio Comunale e successivamente anche da tutti gli organi competenti. Della cosa abbiamo investito anche il prefetto, la Guardia di Finanza e naturalmente per conoscenza l'abbiamo mandato alla sovrintendenza delle Belle Arti abruzzesi e al commissario straordinario governativo al Comune di Teramo. Qualche mese fa facemmo un convegno lì alla sala polifunzionale, Brucchi presente, parlò, giustificò i ritardi dei finanziamenti, responsabilizzò la legione che ancora non concedeva finanziamenti, ma nulla disse della copertura. Aveva accennato in passato, e non ricordo se in quella data ne parlò, in quella sede, di un eventuale progetto per realizzarci un museo archeologico, al che noi pensavamo che era un motivo per cercare ancora una volta di non abbattere i palazzi che insistono sul teatro romano. Però adesso è venuta fuori questa cosa e devo dire che, meno male che Brucchi è stato mandato a casa, perché altrimenti non so che cosa avrebbe combinato ulteriormente sulla storia ormai trentennale del recupero del teatro romano che è diventato un bozzo di San Patrizio per consumare risorse pubbliche, perché questi secondo me vogliono speculare come è stato in basato sull'iniziativa di recupero. L'interruzione dell'erogazione di energia elettrica dovuta alle copiose nevicate del gennaio del 2017 che lasciarono al buio numerose zone della provincia di Termo ha obbligato l'Enel distribuzione di un rimborso aggiuntivo agli utenti, che hanno subito una interruzione di oltre tre giorni. E proprio sulla vicenda dei rimborsi alcuni tenti della provincia hanno scoperto che l'assegno a loro favore era stato regolarmente emesso, con la dizione non trasferibile, ma non si capisce come sia stato incassato da terzi. Una situazione assurda su cui l'associazione Robin Hood ha avviato diverse azioni di tutela a favore dei cittadini interessati da questa vicenda. Premettendo appunto l'estranità dell'Enel distribuzione che ha fatto quello che doveva fare, la responsabilità è tutto a carico delle banche, che così come è prevista da una vecchia normativa e anche dalla direttiva dell'ABI non hanno vigilato su chi ha messo in incasso l'assegno e sull'identità di chi ha messo in incasso l'assegno. Per cui in via prioritaria la richiesta di riavere le somme indebitamente assegnate ad altri va fatta alle banche che hanno effettuato questa operazione. Poi c'è l'aspetto di carattere penale, ci sono già delle indagini in corso, tutti i nostri, coloro che si sono rivolte a noi hanno fatto le relative denunce anche presso i Carabinieri e presso la Polizia segnalando appunto che c'è stato il furto e innanzitutto l'assegno, quindi l'assegno non era arrivato e che questo assegno poi era stato incassato e quindi c'era stato anche un indebito arricchimento da parte di qualcuno che l'ha incassato. Qual è il consiglio che vuole dare? L'istruzione per l'uso è questa, rivolgersi alla distribuzione, accertarsi appunto quale banca, qual è il numero dell'assegno, quale banca l'ha emesso, quale banca l'ha incassato questo assegno, dove è stato incassato questo assegno e quindi poi di conseguenza questi dati utilizzarli per la denuncia ai Carabinieri o alla Polizia. La forte ondata di maltempo, in particolare di gelo, sta creando notevoli disagi al comparto agricolo del territorio provinciale terramano. Nelle campagne con temperature sotto lo zero il freddo siberiano sta creando ingenti danni agli ortaggi come cavoli, verze, cicoli e broccoli, mentre il tepore primaverile delle scorse settimane aveva provocato un risveglio vegetativo delle piante da frutto, particolarmente sensibili al freddo. A far paura è il protrarsi del gelo sui campi che potrebbe nuovamente mettere in ginocchio un intero comparto. Certamente questa ondata di freddo sta provocando grossi problemi, soprattutto alle culture arbore e soprattutto alle trubacee, quelle che hanno avviato l'attività vegetativa visto l'andamento delle temperature. Speriamo che si fermi subito, che si fermi e riprenda un decorso normale, altrimenti avremmo una stagione di sofferenze come spesso accade in queste occasioni. Una situazione che preoccupa, visto che l'intenso freddo potrebbe portare anche a morti ed aborti nelle stalle, nonostante il pasto degli animali sia stato rinforzato per garantire una reazione supplementare di energie e calorie. Adesso animali al pascolo non ce ne sono, sono tutti o la maggior parte sono allevati all'interno, quantomeno in questa parte qui. È ovvio che questo andamento climatico non consente il riavvio del vegetativo esterno, quindi dei prati, dei pascoli e quindi genera un problema dal punto di vista dell'alimentazione e un esborso per gli allevatori subito ad inizio campagna per acquisire foraggi, mancimi che invece si potevano trovare normalmente nei prati pascolo, nei prati con l'allevamento dall'esterno. In queste situazioni gli animali come i cinghiali e anche i lupi scendono più a valle? Assolutamente sì, questi si muovono e vanno dove trovano da mangiare, quindi è una spinta perché soprattutto nelle aree montane e collinari fa moltissimo freddo e tutto ghiacciato, quindi diciamo che materiale reperibile per l'alimentazione non ce n'è o ce n'è pochissimo, quindi sono spinti ad arrivare fino alle zone costiere. La Fiera dell'Agricoltura sarà organizzata dalla futura amministrazione comunale di Teramo e questa è la decisione annunciata dal Comune dopo la riunione avvenuta con il Comitato Fiera, composto da Comune di Teramo, Camera di Commercio, Istituto Zooprofilattico, Cia, Coldiretti, DMC e Istituto di Popparozzi. Una scelta quella del Comune nel rispetto di un evento giunto al suo trentennale. Abbiamo stabilito di rinviare lo svolgimento della Fiera, dichiarato il commissario prefettizio Luigi Pizzi, soprattutto in ragione del fatto che ricorrendo il trentennale dell'istituzione dell'evento sembra più opportuno che lo stesso venga organizzato dall'amministrazione elettiva che scaturirà dalle consultazioni della prossima primavera. Sarà pertanto la nuova amministrazione comunale a stabilire sito e periodo in cui si svolgerà la Fiera, mentre per quanto riguarda la caratteristica Fiera di San Giuseppe in calendario tradizionalmente per il periodo coincidente con il 19 marzo, si è deciso che la stessa si svolgerà regolarmente il 18 marzo, organizzata dalla FIVA Conf Commercio di Teramo in collaborazione con il Comune. Grazie a tutti! Grazie a tutti!